Saluto perché ci lasciano i nostri momentaneamente, sì. Il professor Goldoni è l'anima del gruppo Musica Foscari che fa appunto Elettro Foscari e tante altre cose. Torniamo a parlare di ricerca perché la ricerca non è soltanto scientifica, abbiamo dei risultati interessanti anche in campo umanistico, anche qui non li posso raccontare tutti ma almeno uno oggi ve lo voglio far vedere. Nasce dal gruppo di colleghi che si occupa di lingua di segni, una delle 40 lingue è la lingua dei segni per persone che hanno una qualche disabilità nell'udito e da questa ricerca è nato uno spin off, quindi un'attività estremamente concreta, operativa, business, ovviamente con una dimensione sociale particolarmente importante. A parlarvi di questo e dello spin off che si chiama Visit, Enrico Capiozzo, che è un altro dei nostri giovani. Allora, di cosa si tratta? Sì. Il gruppo di lavoro Visit si focalizza nell'ambito del turismo accessibile, sviluppando soluzioni digitali per turisti con esigenza speciale. Con esigenza speciale intendiamo le necessità date da disabilità motorie, sensoriali o disturbi del linguaggio, ma non solo, anche intolleranze dietetiche, alimentari, allergie, sino a considerare famiglie numerose o anziani. Il 10% della popolazione europea è in presenza di un'esigenza speciale e desidera o necessita viaggiare, ma solo il 2% riesce a soddisfare tali necessità. Visit si rivolge a quell'8% di popolazione che desidererebbe viaggiare nel momento in cui individuasse soluzioni, informazioni adeguate alle specifiche necessità. Il gruppo di lavoro ha sviluppato principalmente due tipologie di soluzioni. Il primo, Visit Network, si tratta di un social network turistico per turisti con esigenze speciali. Questa tipologia di utenti può in questa piattaforma cercare, commentare e condividere informazioni su strutture turistiche pubbliche e private che diano risposta alle loro specifiche necessità, individuando le soluzioni a loro più adatte. È importante ricordare che questa tipologia di piattaforma vuole proporsi anche come strumento di comunicazione preferenziale per tutti gli operatori turistici che credono ed investono economicamente nel turismo accessibile e vogliono contattare in maniera diretta e preferenziale i propri clienti. Ma il secondo progetto, quello che siamo qui quest'oggi a presentare, Visit Tour. Visit Tour è una reinterpretazione in chiave accessibile delle tradizionali guide cartacee. Guide che purtroppo presentano contenuti non accessibili a turisti con disabilità sensoriali o disturbi del linguaggio. Visit Tour fa della facilità di utilizzo, immediatezza di utilizzo e del design for all le sue peculiarità. Design for all infatti perché tutti i contenuti inseriti all'interno delle singole guide saranno accessibili in diverse modalità. In modalità audio, in modalità testuale e in modalità video in lingua dei segni. L'utente quindi potrà di volta in volta andare a selezionare la modalità a lui più adatta. Tutti i turisti potranno quindi usufruire dei medesimi contenuti a partire dallo stesso dispositivo. Semplicemente il cellulare che tutti noi abbiamo nelle nostre tasche e questi speciali cellulari che sempre più avremo nelle nostre tasche. Quando vogliamo, dove vogliamo. Senza limitazioni appunto andate anche da tipi di disabilità. E' interessante inoltre ricordare il perché di questa volontà. Tim Berners-Lee, il padre del web, pochi anni fa ha dichiarato in una sua famosa dichiarazione, in un suo famoso discorso, che l'universalità e l'accessibilità a tutti dei contenuti, indipendentemente dalle disabilità, sono le peculiarità che contraddistinguono e che dovranno contraddistinguere il web. Il gruppo di lavoro Visit fa di questa caratteristica il punto di partenza per sviluppare i propri servizi. Grazie. Grazie. Sono sempre pillole quelle che raccontiamo e devo dire che mi devo scusare per i tanti colleghi che hanno idee altrettanto brillanti e che oggi non riusciamo a raccontare. Però l'anno prossimo ovviamente, se questa inaugurazione vi sarà piaciuta e tornerete, vi racconteremo delle altre idee, degli altri progetti che spero siano altrettanto interessanti. È finita un po' la prima parte, quella più spettacolare dell'inaugurazione, e passiamo alla seconda che è un po' più tradizionale, però c'è un gran finale che vi prego di non perdere perché i nostri studenti di teatro hanno preparato una cosa molto molto bella e coinvolgente. Prima però volevo dirvi io due o tre cose sulle attività di Caposseri, come consuetudine anche se non voglio portare via troppo tempo. Tre sono i temi, il nuovo piano strategico che vi è stato distribuito all'ingresso, la nuova associazione degli alumni di Caposseri, partiremo finalmente con un'associazione degli ex studenti di Caposseri che sarà operativa e gestita dall'università stessa, e poi la nuova fondazione Caposseri. Sono tre perché non riesco a parlarvi delle altre cose, dello statuto, ho detto prima, da oggi abbiamo il nuovo statuto, da oggi parte la nuova organizzazione di Caposseri. Avete ricevuto un libricino sugli assegni di ricerca, vi racconta il lavoro che facciamo con i nostri assegnisti di ricerca e poi quello che produce questi risultati. Beh, vi do solo un numero contenuto in quel libricino che mi ha molto colpito. In dieci anni, dal 99 al 2009, Caposseri ha erogato 420 assegni di ricerca. 420 in 42 all'anno in media sembra un grande numero. Sapete quanti ne ha fatti negli ultimi due anni? 390, quasi 400, in due anni come nei dieci anni precedenti. Non è ovviamente solo merito mio, è merito dei docenti, dei colleghi che tanto hanno lavorato, però quello che è cambiato è il modo in cui si lavora a Caposseri, il riconoscimento della qualità del lavoro fatto che si traduce in maggiori risorse e il fatto che c'è una dinamica nuova che fa sì che appunto ci siano in due anni 400 giovani che hanno avuto un salario per poter fare ricerca in università. E questo spiega anche, in parte ovviamente, il balzo che Caposseri ha fatto nella classifica degli Atenei italiani. nel 2010 siamo arrivati secondi dietro al Politecnico di Torino perché l'indicatore principale, quello su cui abbiamo vinto rispetto agli altri, sono i fondi che riusciamo ad attirare dall'esterno, i fondi che abbiamo da progetti europei ma anche da finanziatori privati. È lì che abbiamo vinto rispetto agli altri. Ed era l'indicatore, diciamo, chiave, quello su cui bisognava lavorare di più. Ed è per questo che colgo l'occasione adesso per ringraziare chi in questa direzione ci ha aiutato, dalla Cassa di Risparmio di Venezia al Banco San Marco, dalla Geox, l'Audes con la quale abbiamo aperto lo store che vende i prodotti di Caposseri e i risultati per il momento, i prodotti, i gadget, le magliette, come nelle università americane, anche noi con successo, devo dire, gradimento da parte dei nostri studenti. La Camera di Commercio, Veneto Banca, sono tanti quelli che hanno colto la novità e ci stanno sostenendo. Ma tutto questo significa che poi, visto che il Ministero finalmente distribuisce all'università in funzione anche dei risultati, nella quota premiale che il Ministero distribuisce, Caposcari ha ottenuto dei risultati molto migliori che nel passato e quindi abbiamo ricevuto ben 10 milioni in più di finanziamenti con i quali abbiamo risanato i nostri conti. Abbiamo dei bilanci solidissimi per quest'anno, ma anche per il prossimo e l'anno dopo non temiamo nessun tipo di restrizione che possa provenire dall'altro, a me a quelle previste non ci creeranno nessun problema. Quindi tante cose si muovono. Il piano strategico, il piano strategico che come vedete, per chi di voi ha potuto guardarlo, contiene tante novità, parte innanzitutto dalla tradizione di Caposcari come punto di forza dell'Ateneo. Tradizione che viene riconosciuta un po' in tutto il mondo nell'ambito economico, ma anche nell'ambito linguistico. Di nuovo tutte le lingue. Due settimane fa a Tokyo ho conosciuto il figlio di uno dei primi docenti di giapponese di questo Ateneo. Insegnavano giapponese a Caposcari già nel 1870, due anni dopo l'apertura dell'università come scuola di commercio, la seconda scuola di commercio nella storia, c'è stata avviata la cattare giapponese. Già allora si capiva come l'apertura verso i mercati orientali fosse cruciale per lo sviluppo del sistema paese. Poi qualcuno si è dimenticato per strada, ma l'intuizione sicuramente c'era. Partiamo quindi dalla nostra tradizione e miriamo a un piano di sviluppo che si concluderà nel 2018 perché festeggeremo i 150 anni di Caposcari in quella occasione. Il secondo punto di forza è la localizzazione. Caposcari è a Venezia e ovviamente essere a Venezia è un grande vantaggio. Tutti conoscono Venezia, tutti vorrebbero venire a Venezia e questo fa sì che il piano di sviluppo internazionale, la capacità di attirare studenti da tutto il mondo e colleghi che vengano a insegnare qui, ci è sicuramente facilitata dalla localizzazione. E poi l'indovazione. Ne abbiamo avuto un saggio questa sera, ma lo sforzo è quello di puntare sull'innovazione organizzativa, gestionale, ma ovviamente innovazione nella ricerca, per riuscire a formare giovani in grado di affrontare le sfide del mercato del lavoro, ma anche fornire al territorio, innanzitutto al sistema delle imprese della Regione Veneto, quelle conoscenze, quelle competenze, quelle tecnologie, quelle novità che permettono di rimanere competitivi in un mercato in cui è sempre più difficile rimanere competitivi. Il piano nasce attorno a questa visione, a questa visione in cui il nostro Ateneo è una realtà unica, diversa dalle altre. Tentiamo di ripetere in molti modi, è unica perché siamo a Venezia, è unica perché c'è questa combinazione, questo mix di competenze che riusciamo a far fruttare perché sappiamo far interagire. cerchiamo di eliminare gli steccati che tradizionalmente tendono a separare discipline diverse, gli umanisti che stanno da soli e non comunicano con gli scienziati o con gli economisti. Superare queste barriere permette di creare nuovi prodotti formativi, ed è quello che stiamo facendo, e nuovi risultati nella ricerca. Quindi nel campo della gestione, ad esempio, del patrimonio artistico, nel campo della gestione degli eventi culturali, citavo prima le relazioni internazionali, e tutta la gamma di attività ad esse con esse che possono essere ovviamente valorizzate dalle nostre competenze in campo giuridico piuttosto che economico. E poi tutto ciò che è la varietà dell'ex scuola di commercio, oggi dipartimenti di management, dipartimenti di economia che producono competenze, producono innovazione in campo strategico o in campo politico. I problemi da risolvere sono tanti, credo che i nostri colleghi siano in molti campi tra i migliori a livello internazionale, e tra poco, quando consegneremo i premi a Foscari, magari ne avrete anche qui un'idea. Quindi la visione è questa, un Ateneo quindi aperto, un Ateneo che collabora con il territorio per poter essere sempre più vicino alla realtà economica, alla realtà istituzionale e al mondo del lavoro. Gli obiettivi sono descritti, non vedrò tempo per raccontarveli, ma gli obiettivi sono descritti nel piano strategico e sono identificati da una miriade di micro azioni, non sono soltanto enunciazioni di principio, ci sono azioni precise, obiettivo per obiettivo, che devono essere implementate e degli indicatori di performance per verificare se effettivamente ci riusciamo, per verificare se quello che promettiamo in termini di visione strategica poi effettivamente viene conseguito e quando c'è un percorso temporale che indica i tempi con cui andiamo a realizzare le nostre strategie. Ecco, questo brevissimamente è il piano strategico, sono 30 pagine molto dense, ci abbiamo lavorato per un anno e mezzo con la collaborazione di tutti i docenti, perché è stato discusso nelle facoltà con attenzione, poi approvato dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, ci ha lavorato un gruppo di lavoro coordinato dal professor Bagnoli e poi preso in mano dall'amministrazione stessa, dal nostro staff di dirigenti che l'ha ulteriormente elaborato. I risultati, a mio avviso, non sono soltanto belli da vedere, ma sono idee concrete attraverso le quali vorremmo davvero che Ca' Foscari diventasse un Ateneo moderno, un Ateneo in grado di competere con i migliori in Europa. Il secondo argomento di cui volevo parlare era l'associazione degli ex studenti, anche questo è un tema importante perché Ca' Foscari non ha avuto una sua associazione di alunni, o meglio, non è vero, ce l'aveva e l'ha persa, perché anche qui siamo andati a vedere gli archivi e torno indietro dopo su questo, ma in realtà già nel 1898 nasce l'associazione degli ex studenti di Ca' Foscari e il rettore di allora diceva non c'è città d'Italia in cui non ci sia uno studente di Ca' Foscari, né mancano all'estero. Vi posso assicurare, avendo viaggiato tanti in quest'anno, dalla Corea al Giappone, dalla Cina agli Stati Uniti, di aver trovato sempre, ovunque, studenti di Ca' Foscari e numerosi sui indietro di Ca' Foscari nei posti chiave di aziende importanti. Quindi è un grande patrimonio, un grande patrimonio che vorremmo valorizzare di più. Qui abbiamo cercato di costruire una mappa dei nostri studenti per farvi capire dove li abbiamo rintracciati. Stiamo costruendo l'archivio degli studenti di Ca' Foscari, una rete che vogliamo non soltanto legare al nostro Ateneo, ma anche legare tra di loro, perché è una rete che porterà benefici a noi, ma i cui collegamenti portano, come tutte le reti, benefici anche a tutti quelli che ci appartengono. Quindi essere in rete sarà utile, importante anche per i nostri ex studenti. Noi vorremmo offrire loro dei servizi, ovviamente dei servizi più banali, quelli dell'identità caposcarina, ma non soltanto, quelli della comunità, appunto, della rete, dei legami tra persone e anche quelli dell'innovazione, perché metteremo a loro disposizione il meglio delle cose che sa fare Ca' Foscari. E quindi immaginiamo che questa associazione, che parte oggi, e il sito web è pronto, lo statuto è pronto, tutto sarà operativo nei prossimi giorni, beh, questa associazione sia effettivamente un beneficio per tutti i nostri studenti, oltre che un beneficio per l'Ateneo, che ha tutto l'interesse nel valorizzare le competenze e le qualità, il lavoro che questi ragazzi hanno poi realizzato successivamente, diventando imprenditori di successo, politici di successo, o quale altro sia il loro lavoro, sicuramente hanno ottenuto risultati importanti. Vorremmo coinvolgerli di più nella nostra vita, vorremmo proporre loro dei corsi di aggiornamento, dare accesso alle nostre strutture, ad esempio avremo tra poco una biblioteca completamente digitalizzata, a cui si potrà accedere a tutto il mondo, e quindi questo sarà un'ulteriore possibilità che daremo a loro. Organizzeremo degli eventi per i nostri studenti, ne abbiamo già in programma, questo è il calendario, forse tra questi il più importante è Caposca di Forward, un evento esclusivo in cui ai nostri, ai migliori, ai primi, diciamo, perché per la prima volta sarà chi prima arriva, prima viene accettato in questo seminario in cui ripresenteremo le novità, le novità del futuro, quello che si può fare o si riesce a fare in giro del mondo per rimanere ad alti livelli di competitività. Il sito web, come vedete, c'è, dal 17 ottobre sarà completato, il sito permetterà di iscriversi, i nostri ex studenti potranno iscriversi, ci sono diverse formule, diverse tipologie di soci dell'associazione, ovviamente dal sostenitore, a cui viene chiesto un supporto finanziario più importante, al socio semplice che può iscriversi con una FII minima e magari nella fase iniziale potremo anche prevedere senza FII. e questa iniziativa spero che permetterà di accogliere intorno a noi una comunità di persone, molti presenti in sala, tra l'altro perché oggi le abbiamo invitati, abbiamo avuto una buona risposta, più di cento tra di loro hanno scelto di venire oggi pomeriggio all'inaugurazione e sono sicuro che anche questa iniziativa aiuterà la crescita dell'Ateneo. E poi ce n'è una terza, e qui finisco perché il tempo vola e ci sono ancora delle cose molto belle da fare questa sera.